La protesta più cretina del mondo che è quella riguardo agli Olivetti a Lecce, i 200 Olivetti a Lecce. Io so bene cosa vuol dire spiantare un Olivetto perché lo hanno fatto quelli dell'Acquedotto Pugliese nella mia azienda in Puglia, le hanno espiantati, anzi rasi al suolo attraverso le esplorazioni, molto più di quelli di cui oggi si sta parlando a Lecce. Eppure non c'era nessun movimento no tap, non c'era nessun Emiliano, non c'era nessun Vendola, non c'era nessuno di questi che stavano lì a protestare contro gli Olivetti, per il semplice motivo che purtroppo in Puglia ne spiantano ogni giorno senza grande protesta. La protesta no tap è una protesta contro il progresso, è una protesta contro il gas naturale, è una protesta contro qualsiasi cosa venga fatta dal capitalismo moderno. È la protesta più cretina del mondo e oggi persino Repubblica con affinati fa vedere in prima pagina una foto che peccato non abbiamo fatto noi del giornale perché è il senso di queste proteste da teste di cavolo. Sapete che hanno mandato avanti a protestare, a bloccare i camion con gli Olivetti, gli olivi imbracati? Dei bambini, ci sono le foto con i bambini, sono stati mandati i bambini, cioè le famiglie mandano i bambini a fermare i camion, violentando i bambini, perché i bambini non possono avere un'idea su quella cosa, subiscono l'idea dei genitori, sono figli del pregiudizio dei genitori, sono comunisti come i genitori, sono fascisti come i genitori, sono democristiani come i genitori, sono liberali come i genitori, non sanno nulla di quella protesta, sanno soltanto quello che gli ha detto i genitori e sanno che si possono mettere con le mani contro una macchina della polizia. Secondo voi questa è una buona educazione, quella di dare al proprio figlio l'idea che può ostacolare il lavoro della polizia? Beh, io penso di no, così la pensa anche Affinati oggi. Non sto sbagliando, non sto sbagliando, Francesca, occupati della realtà, sono 200 piante che rivengono rimesse lì in quel posto, come vi viene in mente, come vi potete immaginare che sia una protesta sensata per un tubo, quando l'hanno... Vabbè, ma la cosa più divertente e la provocazione che voglio fare io questa mattina, noi togliamo a una donna musulmana il figlio perché sarebbe stata rasata la figlia, secondo quello che la 14enne figlia ha detto perché non accettava il velo, e non togliamo questi bambini e i genitori, i quali i genitori li spingono, li spingono a lottare contro la polizia che sta svolgendo il suo ruolo. Questa è la provocazione che mi porterà un sacco di insulti, sia da quelli che non capiscono la storia della musulmana, sia da quelli che non capiscono la nottata. Insultatevi, io godo a essere insultato dai cretini, io voglio essere, come posso dire, la varichina per i cretini, oppure li voglio attirare come la carta moschicida. Sulla questione del musulmano e della bambina musulmana che è stata allontanata dai genitori, e quindi noi preferiamo l'educazione di Stato alla pessima educazione dei genitori islamisti, e su questo io sono perfettamente d'accordo, che è pessima l'educazione confessionale, vi faccio una domanda, qualcuno di voi ha letto oggi un'intervista a Repubblica, alla mamma musulmana a cui hanno tolto la bambina di 14 anni? Fatelo, coltivate il dubbio, come ho detto io ieri, coltivatelo. Il fatto di essere contro l'immigrazione indiscriminata, il fatto di essere contro il fatto che nelle nostre scuole ci siano i cibi per tutte le regioni, il fatto di essere contro al fatto che ci sia una confessione che sta in maniera brutale soppiantando le nostre tradizioni culturali, il fatto di essere contro tutte queste cose, non vuol dire che si può accettare che lo Stato tolga una madre e una figlia senza un processo, senza ragionare che cosa vuol dire quando uno Stato toglie un figlio e il proprio genitore di qualsiasi religione essa sia. Certo, se quel genitore usa violenza e deve essere dimostrato, siamo tutti d'accordo con quello Stato, ma state attenti che quella violenza sia veramente violenza e non sia, come ha detto la madre oggi, è un comportamento addirittura, dice la madre, per togliere i pidocchi che la figlia aveva e che c'è anche un video ci sarebbe in cui la figlia rideva con la madre mentre tagliavano i capelli. Quindi, attenzione, l'idea che i figli possono essere togli ai genitori per me è una cosa che mi fa una paura. E tutte le tangenti ai caviari dell'Azerbaijan, qualcuno di voi dice che il problema sono le tangenti dell'Azerbaijan, fantastico, gli dedico vulpio, adesso il problema del notap non sono più i 200 ulivi, ma sono le tangenti dell'Azerbaijan. Con questo criterio non avremmo dovuto fare in Italia neanche probabilmente le scuole sotto casa vostra. L'altra cazzata sesquipedale oggi è quella che tira fuori forse il Corriere della Sera o Repubblica e cioè che il governo starebbe pensando a sostituire i voucher con il lavoro a chiamata. Il lavoro a chiamata è una cosa che le piccole imprese non faranno mai, mai! Il lavoro a chiamata vuol dire un contratto, vuol dire buste paga, vuol dire malattie, vuol dire tutto quello che il voucher non faceva e che era una nicchia di lavoro temporaneo per pochi giorni, per disoccupati, per giovani precari, che aveva un senso, il lavoro a chiamata è tutta un'altra cosa. Se io dovessi fare il lavoro a chiamata, devo essere una grande impresa, sapete quanto costa un'elaborazione di buste paga in un anno? Sapete quanto costa elaborare le buste paga in un anno? Un migliaio di euro se ti va bene. E secondo voi io faccio i lavoretti e prendo un contabile che mi fa l'elaborazione delle buste paga per mille euro all'anno? Ragazzi, è una cosa che non avete idea che cosa vuol dire fare l'imprenditore in Italia? Cacchio di governanti che non capiscono nulla. Avete tolto i voucher d'accordo con i sindacati per mettere il lavoro a chiamata? È una cosa allucinante, allucinante. Tanto nessuno lo farà e andremo tutti quanti a lavorare in nero. Vi saluto e vi consiglio sempre insultatemi, insultatemi, insultatemi perché tanto non me ne fotte nulla. Ciao!